Era il 9 giugno 1940, quando queste nove sorelle, tutte di Torino, in forma molto ufficiale, è partito questo gruppo alla sera, salutato da tutte le autorità cittadine, comprese città militari e non militari, perché queste sorelle hanno fatto un po' una importanza particolare, perché erano le prime che partivano per la guerra, perché si sapeva che ci sarebbe stata la guerra. Comunque con questo viaggio di tante ore, di tutta la notte e poi al mattino abbiamo dovuto cambiare treno a Napoli, insomma siamo a Roma e siamo poi arrivati a Napoli. Allora a Napoli sono venuti ad aprirsi, a prendersi le autorità del posto e ci hanno portato sulla nave gradisca e lì ci hanno segnato i posti nelle cabine. Alle 5 avevamo l'ordine di essere tutte sul ponte principale, lo chiamano il quadrato, la camera più grande, inquadrate a sentire il discorso del capo del governo. E allora abbiamo sentito il discorso, ha detto che eravamo in guerra qui e là e ha finito il discorso con queste parole, italiani in piedi. Dopo due o tre giorni ci hanno dato la piastrina, la piastrina di riconoscimento, da tenere sempre al collo, questa piastrina con il nome e la data di nascita e tutto quanto appartenente a quale gruppo? Cri, ecco, bisognava tenerla sempre con noi perché in caso di naufragio, di smarrimento e così si sapeva come individuare la persona, ecco, da dove veniva. E questa è stata, almeno per me, la cosa più emozionante di tutte, perché questa consigna di questa piastrina voleva dire un impegno, un impegno serio da difendere a qualunque costo. Quindi ho sentito la gravità, ecco, l'importanza e la gravità della cosa. Questo venne che Arturo mai più si immagina di essere passato alla storia, perché era un povero soldato sofferente, con una malattia terribile, perché aveva una polisierosite incurabile. Ed è stato assistito, non curato, perché non si poteva curare quello, togliere l'acqua, ecco, questo sì. Però assistito, meglio che si poteva, in modo da aiutarlo ad affrontare l'ultimo passo. E che cosa le ha lasciato, che cosa le ha dato? Aveva in mano questo libretto da messa, io ogni tanto gliene leggevo qualche pezzetto, perché aveva tanti argomenti, tutti gli argomenti che potevano interessare a un soldato di leva. Quindi non so se lo sentiva o non sentiva, però alla fine, quando io volevo rimetterglielo lì sul comodino, lui quella sera mi ha detto, sorella, lo tenga lei questo, lo tenga lei per mio ricordo. Allora l'ho portato a casa, l'ho portato via e come ha scritto lei sul coso, il giorno dopo il letto era vuoto. E lei questo libro ce l'ha ancora? Certo. Un ricordo di quando era sulla nave base a Bengasi, quando era? Eh, siamo stati parecchio tempo in nave base, perché, come dico, intanto per prima cosa, arrivando sulla costa africana, abbiamo imbarcato quelli che erano già ricoverati là, in ospedali territoriali, in ospedali del posto, e che andavano dovevano venire in Italia, dunque abbiamo già liberato tutti quei posti di là, mettendoli sulla nostra nave, che poi li avremmo portati a casa. E poi c'è un fatto che è anche venuto poi in tv. E' successo che una volta la mia ispettrice qui di Torino mi ha detto, guarda qui c'è una cosa che forse interessa a te. E mi ha dato questa richiesta di uno che cercava qual'era quella sorella che in quel viaggio, in quella data, su quella nave, in quel posto, era in prima chirurgia, eccetera, eccetera. E allora, dopo aver assaggiato tanti, in comità, tanti ispettorati e tante sorelle, quando sono capitati a me, ho detto, ma eravamo noi che avevamo quella prima chirurgia, eccetera, eccetera. Allora, lui attraverso l'ispettorato poi di Torino, perché allora gli abbiamo poi detto che io ero di Torino, ha poi scritto, e si chiamava Nicolò Carollo e quando è salito sulla nave, aveva 18 anni, era piuttosto malandato, 18 anni, e lui disse, io ho sempre avuto davanti agli occhi la figura di questa sorella che è stata la prima persona che mi ha raccolto, che mi ha raccolto sulla nave e che mi ha messo sul letto e poi l'abbiamo curato durante il viaggio, non so quanto poi è durato quel viaggio. Comunque, lui, dopo 60 anni, aveva piacere di dire a questa sorella, se era ancora viva, che lui era riconoscente e si ricordava di questo. E allora siamo venuti così, come dire, epistolare, e lui poi mi ha mandato delle belle riviste, perché poi lui ha fatto carriera, e lui era un marò, allora, 18 anni, un marò, ma poi ha fatto questi corsi, è diventato ufficiale, è stato all'estero, è stato prigioniero, e mi ha raccontato tutte le sue vicende, ecco, e le sue decorazioni, eccetera. E si è mantenuto per un po' di tempo così, non dico devoto, ma insomma, vivo, ecco. E la cosa strana è che a Magalli, a quel venerdì mattina o martedì mattina che c'è la trasmissione di Magalli, Piazza Grande, ecco, si chiama Piazza Grande, è la trasmissione di Magalli, una volta, senza dirmi niente, mi ha fatto dire che avrebbe avuto piacere di intervistarmi sulla TV, persona così, e quando sono stata lì ho raccontato quello che avevamo fatto con i marinai, giovani, non giovani, eccetera, eccetera, e lui dice, e se lei dovesse rivedere uno di quelli che ha visto, che ha curato là, le farebbe piacere, dico, certo che mi farebbe piacere, ma è una cosa impossibile, perché dopo 60 anni, poi i nomi, chissà, e non è detto, non è detto, aspetti un momento, allora hanno aperto delle tende e hanno fatto venire avanti, avevano vertito questo qui, è arrivato lui, in borghese, ma con il berretto di marina, con le decorazioni, e lì baci, abbracci, eccetera, eccetera, è stato un avvenimento quello, perché anche per Magalli, lì c'era toccata anche la parte sentimentale, che di solito nelle altre argomenti è un po' sorvolata. Avevava un'attrezzatura magnifica, un'attrezzatura perfetta, dal lato medico, dal lato chirurgico, non mancava nulla, ecco, ed era una soddisfazione poter curare questi qua, ecco, perché bisogna dire che lì, in primo chirurgia, c'erano i lettini, perché noi, arrivando su una nave gradisca, senza malati, perché all'inizio non siamo, siamo stati almeno a venti giorni prima di partire. Qui sbagliano, perché io ho sentito dire che sbagliano, io posso dire che la prima nave che è partita è stata la California, la prima nave ospedale, poi siamo partiti noi, ad ogni modo partiti per missione, ecco. In quei tempi, in quel periodo, in cui siamo stati fermi, abbiamo lavorato come dei matti, delle matte, perché erano tutte le sorelle, perché questa nave era stata messa in disarmo, affrettatamente, dopo l'Africa orientale, ma nessuno aveva poi preso in mano su quello che era la biancheria, eccetera, eccetera. L'abbiamo presa in mano noi, quindi c'era una sorella, avevamo la macchina da cucire a piedi, messe sul ponte, ecco, era Rosano che parlava, perché poi di certe cose, di due pigiame ne facevamo uno, di due lenzuoli ne facevamo, cercavamo di utilizzare tutto quello che si poteva, ecco. E abbiamo rimesso in ordine la biancheria della nave e poi tantissime altre cose. Abbiamo lavorato, lavorato, perché non so, per esempio, le tendine, le finestrine che davano sui passaggi, era bene coprirle, che non si vedesse dentro. Poi le borsette, per il primo chirurgia, non sotto per l'estima, prima chirurgia, ogni letto aveva la sua borsetta con dentro il tovagliolo, le posate, insomma, le cose sue personali. Quello che invece ho fatto io, che mi sono proprio dedicata molto a quello, è stato riverniziare le targhette che erano vicino a ogni letto, perché ogni lettino, ogni cuccietta, ognuna di tutta la nave aveva un quadratino di fianco con il nome e la qualità, la categoria della cosa, e un numero. Quel numero corrispondeva alla cialuppa dove questo avrebbe dovuto andare in caso di abbandono nave. E soltanto che questi numeri, queste scritte, si erano sbiadite tanto, sai, perché era passato tanto tempo. E allora le ho riverniziate tutte, le ho riverniziate, e ce l'ho io, una fotografia che sono lì, che sono... Arriviamo all'8 settembre. Cosa si ricorda di quel giorno? Avete tanto tempo, perché l'8 settembre è una cosa drammatica, veramente drammatica. Come fare a spiegare? Quella, devo dire, che è stato l'atto di eroismo che io ho provato, l'unico, l'unico, perché ero sull'Aquileia, che era una nave stupenda all'inizio, era una nave stupenda. L'Aquileia era piena così di ferici e di tutto. E poi aveva il personale che non voleva saperne, come dire, non rivoluzionare, ribelle, ecco, ribelle, che non voleva neanche dare da mangiare le ammalate, piuttosto buttavano via la roba. E c'era una sporcizia tale che avevamo le blatte dappertutto comprense nella sala operatoria. Dunque, la prima sera, quando io sono arrivata, mi hanno detto, lì, la cameretta, con la cucchetta, io mi stendo sul letto, con la faccia contro il muro, e dopo un po' vedo un paio di baffi che vengono su contro il muro. Dico, che boh, ma questa è una bestia. Allora mi butto giù, sposto un momentino, era pieno lì sotto, di queste blatte, di tutte le generazioni, diciamo, di tutte le grandezze. E tu, ecco, allora io quando ho detto, beh, io, ma non posso, io non dormo, perché l'eroismo non è quello di subire le bombe, ok? L'eroismo è dormire con gli scarafaggi, ecco. E allora, mi ricordo che ho visto lì un ufficiale che passava, dico, ma non può darmi un po' di DDT? un po' di DDT. Lui dice, ma sorella, è piena la nave, cosa vuol dare DDT? Ecco. Allora, la capogruppo mi ha permesso di dormire su una sedia sdraio di legno sul ponte, perché queste bestie sul legno non andavano, sul legno fuori non andavano, e poi saltavano fuori di notte. Allora io, senza spogliarmi mai, naturalmente, togliendomi soltanto il velo e le scarpe, per quelle notti, ho poi dormito su questa sedia sdraio, sul ponte, sul ponte, perché, se no, perché viene poi il momento che uno ha anche bisogno di distendersi. Poi, niente, poi, ecco, il momento dell'armistizio era in piena notte, perché noi, questo, faccio un tempo dirlo, abbiamo raccolto tutto un gruppo di naufraghi nel Golfo di Gaeta. Vedendo su, passando dal Golfo di Gaeta, c'era un aereo tedesco che era affondato e questi naufraghi che stavano morendo nella nafta, lì dal Golfo. Noi eravamo tutti strapieni, era la nostra nave, però il comandante ha detto, li dobbiamo prendere, anche a costo di metterli all'aperto sopra, non possiamo lasciarli. È stato molto bravo e li ha fatti raccogliere tutti, li ha messi senza pigiame, perché non avevamo più niente sopra, li ha messi di sopra, in plancia, non so dove li ha fatti mettere. E questi che, giovanissimi, giovanissimi, biondini, non so se erano volontari, una pena tremenda. E lì parlavano armistizio, armistizio, e questi qua, mi ricordo che mi hanno detto, armistizio, forse per voi, ma per noi mai. Questa era l'educazione che avevano avuto, proprio io, vivente. E poi siamo arrivati a Livorno, a Livorno c'era già la commissione d'armistizio tedesca per accoglierci. E allora tutti scappavano, ufficiali e non ufficiali, imbroghese, tutti imbroghese, naturalmente alcuni con cartelle cliniche false per andare poi a finire sui treni ospedali, scappavano, scappavano tutti. E il comandante vedeva benissimo, ma non avendo ordini non poteva dire niente. E quando sono scappati tutti i feriti, li abbiamo scaricati per bene a tempo giusto. Quando poi la nave si è vuotata di tutti questi militari e borghesi, il comandante ci ha chiamati e ha detto, guardate sorella, qui siamo rimasti noi, voi nove e io. Quindi la nave così non parte più, è sicuro. Chiedete se vi lasciano scendere. E allora la commissione d'armistizio che c'era è stata generosa, ci ha lasciato scendere. E così lì abbiamo incominciato un viaggio di due giorni e due notti e sono arrivata a casa.